Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e di nuovo ancora ben ritrovati, tanto per cambiare nel solito disordine della mia libreria, da me, dal casino qua dietro, dalla bandiera giapponese e dalla mia maglietta di Geronimo. E c'è un perché porto la maglietta del grande capo Apaci, dell'ultimo combattente nativo americano ad arrendersi alle giacche azzurre. Allora, c'è un perché. Allora, dovete sapere una cosa. Allora, premetto una cosa. So che non dovrei fare questo video perché non dovrei abbassarmi a livello di certi personaggi, ma sapete com'è? Ritengo che sia, come dire, quantomeno un dovere dare fastidio a certi fenomeni, sì, chiamiamoli con il loro nome. Perché sono mesi ormai che un tale signore Giancarlo Mele che pubblica post continui sul mio canale YouTube e che mi insiste, insiste da mesi dicendo che devi sempre illustrarmi una sola azione di guerra messa in atto dall'associazione a delinquere, composta da banditi che pensavano di essere soldati noti come partigiani. Allora, il commento credo che si qualifichi da sé, il personaggio credo che si qualifichi da sé con questa cosa qui. Va avanti da tempo questa storia ormai. Io sinceramente, come dire, non volevo dargli questa soddisfazione, ma dato che, come dire, insiste, resiste e persiste con questa cosa qua, si dice che domandare è lecito, rispondere è cortesia. Anche se qui abbiamo a che fare con una persona che oggettivamente non conosce minimamente le basi di quello che fu la lotta partigiana, di quello che vuol dire la lotta partigiana. E qui entra in ballo chi? Geronimo. Ok? Geronimo fu uno... Allora, tenete presente una cosa. Breve storia. Il termine guerriglia viene dalla guerra nella penisola iberica. Spagnoli e inglesi contro le truppe d'occupazione francesi dell'esercito napoleonico. Va bene? E bande di contadini più o meno organizzati, di militari, di banditi, insomma, genti di tutte tipiche, nelle retrovie francesi creava scompiglio, attaccava le colonne di rifornimento, attaccava presidi isolati, creando, come dire, creando proprio la guerriglia come la conosciamo ora. Va bene? Il termine guerriglia viene da lì. Viene anche usato il termine guerra laterale, viene anche usato il termine guerra asimmetrica. Ecco, si può usare il termine più preciso, sarebbe guerra asimmetrica. Ne sono stati maestri assoluti. Uno è Geronimo. L'altro è stato l'altro grande condottiero pelle rossa, l'altro grande condottiero nativo americano che risponde al nome di tuono che romba fra le montagne. Capo dei nasi forati, noto qua in occidente, noto in Europa e in America, con il soprannome di Capo Giuseppe. Il capo dei nasi forati che riuscì con un pugno di guerrieri a buggerare per mesi e mesi i soldati americani con brillanti azioni di retroguardia, con straordinarie azioni di disturbo, con una strategia eccezionale che ispirò un autentico maestro della guerriglia come Che Guevara. Maestro della guerriglia fu anche Mao, lo sappiamo fin troppo bene, maestro della guerriglia fu anche Kim Il Sung, Pol Pot fu un altro maestro della guerriglia, maestro della guerriglia, maestri della guerriglia furono anche i cosiddetti cuaristi, coloro che resistettero all'imperatore Massimiliano d'Austria messo sul trono del Messico dai francesi. Insomma, la guerra non convenzionale, la guerra asimmetrica, ecco un altro esempio a noi più vicino, i talebani, i talebani o gli iracheni o comunque sia gli iracheni che si mettono bombe a vicenda fra di loro per stabilire chi è più iracheno fra loro, insomma, la guerriglia kurda, insomma, gli esempi sono tanti di che cos'è la guerriglia, di che cos'è la guerra laterale, di che cos'è la guerra asimmetrica, azioni di disturbo in retroguardia, mordi e fuggi, colpisci e scappa, attentati, attentati, azioni eclatanti tipo quella, molte fatte anche dai partigiani, tipo quella di portare via il grano dagli ammassi per distribuirlo alla popolazione affamata, propaganda, cose che hanno fatto in tempi più recenti i talebani, i kurdi che hanno fatto veramente più o meno tutti i guerriglieri, perché come diceva Mao, il guerrigliero è un pesce e il suo mare è il popolo, il Vietnam, clamoroso esempio, i Vietcong, clamoroso esempio di come la guerriglia sia riuscita a sconfiggere uno dei più potenti eserciti della storia. Che vi devo dire? La guerriglia non è lo scontro campale, la guerra asimmetrica, la lotta partigiana, la lotta contro l'invasore, la lotta contro l'occupante, non è bandiere al vento e scontro faccia a faccia come pretende il signor Mele, che dimostra semplicemente di essere un tifoso da stadio trasposto in ambito storico, ovvero sia il tipo di personaggio che meno stimo in questo ambito. Si tratta di una guerra dura, difficile, rischiosissima, feroce e cattiva, punto e basta. Dai tempi della guerra peninsulare, dai tempi della guerra che nella penisola iberica vide contrapposte le truppe napoleoniche, le milizie spagnole e l'esercito inglese, insomma, che vi devo dire? Fino ai tempi moderni dei talebani ed intorni, ecco, un altro maestro della guerra asimmetrica, Ahmed Shamasud, il leone del Panjshir, qualcuno se lo dovrebbe ricordare. Non ci sono, come dire, azioni militari campali nella guerriglia, non ci sono battaglie come le concepisce tanto certa retorica nostalgicoide, no, la guerra asimmetrica è una guerra fatta di agguati, di imboscate, di fughe, di rastrellamenti, di sganciamenti. Questo è la guerra asimmetrica. Si fa saltare un ponte qui e poi si scappa, si fa saltare una linea ferroviaria là e poi si scappa, si comunica agli inglesi dove sono attendati i reparti tedeschi, si drenano risorse dal fronte per contrastare la guerra asimmetrica. Io ho fatto un altro video in cui spiegavo come Kesselring affermò senza alcuna vergogna che la lotta antipartigiana impegnò un buon 30%, se non di più, delle forze tedesiche in Italia e la quasi totalità delle forze della Repubblica Sociale italiana, che furono tolte tutte risorse, tutte forze, tutti uomini tolti dalla guerra vera contro gli americani. Il compito dei partigiani era questo, rendere insicure le retrovie delle linee tedesche. Informazione, disturbo ai trasporti, disturbo ai convogli, attacchi rapidi, mordi e fuggi, ce ne sono stati a decine, a centinaia, a migliaia. Signor Mele, la guerriglia è questa. I partigiani sapevano benissimo di non essere in grado di affrontare i tedeschi e i repubblichini in una battaglia campale, pochi come erano e male armati come erano. Non è che ci voglia molto capirlo. Però in certi casi, e qui caro signor Mele l'ha contento, ci furono degli episodi in cui ci fu lo scontro aperto tra le formazioni partigiane e le formazioni tedesche e le repubblichine, come nel 1944 a Vilano di Cantiano, dalle mie parti. Che cosa accadde a Cantiano? Ottanta partigiani delle Brigate Garibaldi affrontarono 800 tra tedeschi e fascisti di Salò? Li affrontarono per sganciarsi da un rastrellamento. Tedeschi e fascisti stavano rastrellando la zona proprio per cercare di catturare questa ottantina, neanche 180, erano 80, 80 partigiani delle Brigate Garibaldi attestati nei pressi di Cantiano. E che cosa fecero queste centinaia di tedeschi e fascisti? Rastrellarono, ma non le riuscirono a prendere perché? Perché effettuarono una magistrale, i partigiani effettuarono una magistrale operazione di sganciamento dall'accerchiamento, inflissero gravi perdite ai tedeschi e ai fascisti e se la filarono sulle pendici del Catria dove non potevano essere trovati. Questo fanno i partigiani, questa è la guerra partigiana, questa è la guerra asimmetrica, la guerra laterale, la guerra non convenzionale, quella praticamente inventata da quest'uomo, dal grande capo Apaci Goiatlai, che vuol dire quello che sbadiglia. Da noi occidentali, da noi europei, dagli americani conosciuto col nome di Zeronimo. Perché quando tu hai una forza piccola, debole e anche abbastanza mal armata, ma che conosce il territorio e che sa sfruttare il territorio, tu puoi mettere in grave difficoltà l'occupante che si trova con le retrovie insicure, che si trova con l'impossibilità di poter rilassarsi, di poter riposare, di poter essere sicuro nelle retrovie. Era quello il compito dei partigiani, è quello il compito dei guerriglieri, è quello il compito della guerriglia. Gli americani in Afghanistan hanno dovuto reimparare da capo la lezione datagli da Geronimo. Gli americani, gli inglesi, anche noi italiani, abbiamo dovuto come dire imparare a caro prezzo la lezione nuovamente, la lezione della guerra simmetrica. I kurdi sono assoluti maestri della guerra simmetrica. La guerriglia kurda sono decenni che tiene impegnato uno dei più potenti eserciti del mondo come quello turco in una guerra che oramai di laterale o di guerriglia ha ben poco, perché qui si parla veramente di scontri in campo aperto in cui i kurdi, ahimè, hanno avuto la peggio data la superiorità di numero e la superiorità in armamento dei turchi. Questo non è che ci vale molto a capirlo. Il signor Mele, diciamola così, in base alla sua evidente militanza politica non vuole capire queste cose, non le vuole capire, non è in grado di capirle, penso, e fa la figura veramente del bue che dice cornuto all'asino. È una metafora che uso sempre ma è evidentemente l'unica da utilizzare. Lui ha bisogno di sapere in quali scontri armati furono coinvolti i banditi partigiani, i malvagi partigiani. Allora, a parte che se i partigiani erano malvagi, io vorrei sapere gente come Koch, Caruso, Finizio, Carità, eccetera, 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 che cosa erano? Tutta gente che aveva fatto della lotta, insomma, insomma, ne ho già parlato. Piper, che cosa era? Se erano crudeli i partigiani, Piper, che cosa era? Se erano crudeli i partigiani, come definire Walter Raeder, come definire l'abominevole massacro di Sant'Anna di Stazema? Caro signor Mele, perché non potevano difendere il paese? Mi immagino sicuramente la risposta del signor Mele. Signor Mele, lei lo sa che Sant'Anna di Stazema era considerata zona sicura e protetta dalla Repubblica Sociale Italiana? E la Repubblica Sociale Italiana aveva inviato a Sant'Anna di Stazema, ma decine e decine di sfollati, perché quella era una zona sicura, quella era una zona dove non c'erano partigiani, che erano attestati da tutt'altra parte. E che cosa fece Raeder? Massacrò indistintamente e con ferocia uomini, donne, bambini e vecchi, perché doveva ripulire le retrovie? Anche se quelli lì erano stati mandati lì dallo Stato alleato della Repubblica Sociale per questioni di sicurezza sfollati per sfuggire ai bombardamenti. A Sant'Anna di Stazema ci furono così tanti morti perché c'erano tantissimi sfollati mandati lì dalla Repubblica Sociale, perché quella era una zona sicura, quella era una zona dove i partigiani non c'erano. Signor Mele, le pare? Le pare? Io ve l'ho detto, a Cantiano, 80 partigiani delle Brigate Garibaldi che diedero filo da torcere e soprattutto inflissero gravissime perdite a 500 o 600 tra fascisti e tedeschi. Bella figura che ci hanno fatto, 80 scalzacani contro i superiori e gloriosi eroi ariani e i loro fieri, fedeli e combattivi camerati italiani delle Brigate Nere. Bella figura che ci avete fatto a Cantiano, bella figura proprio. Altre belle figure, i reparti antiguerriglia tedeschi e italiani le hanno fatti in Piemonte, dove ne hanno prese parecchie, ne hanno prese anche ad opera di un certo signore che si chiamava Paolo Cacciadominioni. Criminale anche lui? Paolo Cacciadominioni? L'eroe di El Alamein? Uno dei più grandi italiani dell'ultimo secolo? L'uomo che appena sbandatosi dopo l'8 settembre andò in montagna senza pensarci due volte, in culo Mussolini, mettendosi a capo lui, monarchico di ferro di una brigata Garibaldi composta da militanti comunisti. Comunisti che nel giro di un paio di mesi Paolo Cacciadominioni trasformò né più né meno in emuli dei cacciatori delle Alpi di Garibaldi nel 1859. Perché? Perché Paolo Cacciadominioni era quello che si dice un grand'uomo. Voi chi ci avete? Chi ci avete come grandi uomini nell'altro lato? Coc? Caruso? Finizio? Colombo? Di cui ho già parlato? Bella gente? Bella gente che potete sbandierare voi? Devi dimostrare una battaglia combattuta dai partigiani? Semplice. Basta farsi un giro con un qualsiasi libro che parli della resistenza e si scopriranno decine di attentati, ponti fatti saltare, ferrovie danneggiate, ferrovie sabotate, attentati dinamitardi e anche omicidi mirati. Perché la guerra laterale, la guerra asimmetrica è questa. Perché non puoi combattere faccia a faccia con un nemico mille volte più forte che in campo aperto logicamente ti fa a pezzi. Devi agire come diceva il duca Federico da Montefeltro, con l'astuzia della volpe, la rapidità della serpe e della vipera, la crudeltà del lupo e la spietatezza della lince. Oltre ad avere occhi d'aquila e volo da voltoio. E parliamo di Federico II da Montefeltro, uno dei più gloriosi, se non il più importante capitano di ventura del rinascimento italiano, uno dei maggiori geni militari della storia d'Italia, che si intendeva anche di guerriglia. Caro signor Mele, sono tante le azioni partigiane, dall'occupazione della città di Alba, dalle repubbliche della Valdossola, dai piccoli attentati fatti a ponti, camion, strade, eccetera, 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 perché quello era il compito della guerra partigiana, rendere insicure le retrovie tedesche, impegnare il maggior numero possibile di tedeschi e di fascisti contro di loro, di modo che fossero distolti dal fronte. E i tedeschi e soprattutto fascisti ci cascarono con tutte le scarpe. E ripeto, il più clamoroso esempio, quello più vicino a casa mia, la battaglia di Villano di Cantiano, 80 scalzacani raccogliticci e malarmati delle brigate Garibaldi, che con una sola mitragliatrice ben appostata, riescono a infliggere perdite gravissime ai reparti che cercavano di rastrellarli e che riuscirono a sganciarsi praticamente senza perdite, con un'azione estremamente brillante che viene tuttora studiata dagli enti militari come esempio di abilità tattica da parte di guerriglieri, da parte di partigiani, da parte di truppe asimmetriche. E poi, io lo dico sempre, la guerra è brutta, la guerra è violenza, la guerra è sangue, merda, logistica e tante brutte cose. L'onore, l'odore, a noi, è questo, è quello, fedeltà a qui, a qua e... Insomma, state un po' zitti per piacere, state zitti, perché voi e nemmeno io, c'eravamo all'epoca e possiamo averne un'idea dai libri, no? Giusto da questo che ho recensito oggi. Si può avere qualche idea della situazione, su come si combatteva sul fronte italiano, anche da parte partigiana. Ammesso e non concesso che il signor Mele sia in grado di aprirlo, leggerlo e soprattutto capirlo, perché mi dà l'idea di essere lievemente obnubilato dalla sua fede politica di tipo calcistico, ma io non ci posso fare niente. Io parlo male di tutti, quando è ora? Parlo male di Stalin, parlo male di Beria, parlo male di Molotov, parlo male di Winston Churchill, parlo male di Hitler, di Goebbels, di Petain, di Mussolini, di Bottai. Io parlo male sempre di tutti, parlo male di chi se lo merita. E se questo al signor Mele dà tanto fastidio, a me non me ne può, frega di meno. Gli ho dedicato questo video semplicemente per dargli la soddisfazione di sentirsi vivo, di sentirsi importanti. Dici, oh cazzo, Metal Mike mi ha dedicato un video. Sì, sì, ma credimi, credimi, caro bue che dice cornuto all'asino, non è che ci hai fatto una gran bella figura con i tuoi post e con le tue considerazioni, perché hai dimostrato soltanto di essere un poveraccio. Hai dimostrato di essere veramente uno che non sa assolutamente nulla. Quindi, cari signori, a nome di Geronimo, Goiatetlai, quello che sbadiglia, e di Tuono che romba tra le montagne, Capo Giuseppe, chiudiamo il discorso su guerriglia, guerra laterale, guerra simmetrica, guerra partigiana. Salutiamo caldamente il signor Mele, sperandolo, sperando di averlo accontentato nella sua ansiosa ricerca di una azione bellica da parte dei partigiani. Ce ne sono tante, ma evidentemente il signor Fenomeno Mele non è stato in grado di trovarle perché è troppo impegnato a ciabattare cose a caso sul mio canale. Non mi fate essere cattivi, non tirate fuori il metallaro perfido, bastardo e stronzo che è dentro di me facendo dire certe cose. Se il signor Mele non ha un cazzo di meglio da fare del venire a rompermi i coglioni sul mio canale, faccia pure. Dimostra di avere una vita ben vuota e misera. Dimostra semplicemente di essere un povero troll, un cialtrone. Io sono quello che sono e oggettivamente diciamoci la verità. Sono bello così e sono un figo della Madonna. Anche perché non ho, come dire, il risvoltino, non ho i capelli a cappella, non ho la barba unta da dignitario del re Assiro Sargon II alla corte di Babilonia, non ho altro se non il mio giubbino da combattimento, i miei disordinati capelli e i miei disordinati libri. Questo ciò. Mentre qualcuno evidentemente in testa ha molto meno di me. E sta a voi specificare che cosa c'è in certi crani. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi saluto. Saluto tantissimo al signor Mele, al quale consiglio vivamente di leggersi finalmente qualche libro e non i disegnini e non i disegnini fornitili da Casa Pound. Ok? E spero, come sempre, che questo video vi sia stato utile, che questo video vi sia risultato interessante. Tra l'altro, tra qualche giorno, farò un video anche in cui parlerò di alcune zone che hanno visto la lotta partigiana nelle mie parti. Se vi ricordate bene, a Fonte Corniale di Montefelcino furono date alle fiamme le case dei miei parenti. Ahimè! Mia madre, con sua sorella e mia nonna, rischiò di essere fucilata dai tedeschi. Mia nonna mise in atto una spettacolare beffa nei confronti dei tedeschi. E penso che ve la racconterò nel prossimo video, perché è molto divertente. Quindi, cari signori, tenetevi pronti, perché di carne al fuoco, come sempre, ce n'è. E vi aspetto. Quindi, miei cari, buonasera e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ci vediamo!